Affermare che il peggio sia ormai alle spalle è senz'altro eccessivo, anche perché 1.263 nuovi positivi in Valtellina e Valchiavenna registrati nelle sole giornate di lunedì e martedì non sono di certo pochi. Anzi, ciò che tuttavia è decisamente degno di nota è che dal report di ATS della Montagna si apprende che i guariti registrati tra il 17 e il 18 gennaio sono stati ben 1.118. Segnale questo di altrettanti via libera per chi finora è stato costretto alla quarantena, svuotando letteralmente strade, piazze, negozi, locali pubblici, ma anche scuole e luoghi di lavoro. Scuole soprattutto. I dati della regione relativi alle quarantene in provincia di Sondrio fino al 16 gennaio parlano di ben 102 classi, dalla scuola dell'infanzia alle superiori, costrette a casa, per un totale di 1.370 tra bambini e ragazzi e 87 operatori scolastici. L'aumento dei contagi che ha portato alle quarantene ha riguardato in particolare la fascia tra i 3 e i 5 anni, fascia per la quale non è ancora previsto il vaccino, e un lieve decremento invece nel segmento tra i 14 e i 18 anni. Al contrario, verosimilmente, è collegato alla sempre più capillare diffusione delle vaccinazioni tra gli studenti di quell'età. E di Covid si è parlato anche nel corso della riunione odierna del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sotto la lente, i dati sulle verifiche effettuate dal 6 dicembre dalle forze dell'Ordine e dalle polizie locali che hanno consentito di controllare in provincia 10.369 persone, delle quali 21 sanzionate per mancanza di Green Pass e 132 per inidoneità o mancanza di mascherina. 1.096 gli esercizi controllati, dei quali 33 non in regola e sanzionati, con una persona denunciata per il divieto di mobilità per quarantena. Nel mese in corso, i controlli hanno interessato 4.810 persone, delle quali 2 sanzionate per mancanza di Green Pass e altrettante per inidoneità o mancanza della mascherina. 416 gli esercizi e le attività controllate, delle quali 1 non in regola e sanzionata con una chiusura provvisoria, e 2 le persone denunciate per il divieto di mobilità per quarantena. Nel corso della riunione è stato anche analizzato l'andamento dei reati a livello provinciale per il 2021. Confortante è il dato complessivo, vi è stata infatti una flessione dei reati predatori e concernenti la materia degli stupefacenti rispetto al 2020, quando già risultavano in diminuzione sul 2019 anche a causa del lockdown. In controtendenza unicamente i reati fiscali finanziari in aumento rispetto al 2020. edilizia